Domenica non si deve sbagliare assolutamente, bisogna solo e soltanto vincere per farlo. La città deve rispondere presente ed accorrere in massa al vecchio Vincenzo Presti. Invitiamo tutti i gelesi, quelli veri, sportivi e non, a spingere gli undici in campo alla vittoria. Il lariscatto di un'intera città può e deve partire dallo sport, dal calcio. Il messaggio dei tifosi della Curva Angelo Poscai è chiaro, diretto. Domenica prossima il Gela ha una grandissima occasione per scacciare le incertezze delle ultime settimane. Davanti al pubblico di casa, i biancazzurri del tecnico Totò Bruculeri riceveranno la visita del Mussomeli ed in contemporanea il calendario prevede lo scontro fratricida tra Dattilo Noir e San Cataldese, le altre due squadre che assieme al Gela guidano la classifica del Gironea del campionato di eccellenza. A prescindere dal risultato che maturerà in terra trapanese, i gelesi hanno un solo obiettivo da conseguire e si chiama successo. Altro non conta perché, se vogliamo dirla tutta, il torneo è come se stesse aspettando proprio il Gela. E la dimostrazione la si è avuta proprio nel turno precedente. Il pareggio ottenuto dalla squadra, preseduta ad Angelo Tuccio a Mondello contro la Parmonval, con tutti gli svolti polemici che ne sono seguiti e sui quali indaga la Lega, è stato attutito dagli altrettanti pareggi di San Cataldese in casa con il Castrebuono e Dattilo in trasferta ad Alcamo. Ecco perché la partita di domenica assume una rilevanza di straordinaria importanza. Vincere significherebbe staccare una delle due accontententi. In caso di parità, infatti, tra Dattilo e San Cataldese, il Gela si porterebbe a più due. Dunque, avanti tutta. E come ribadiscono i tifosi biancazzurri, quella che all'inizio di questo campionato poteva essere una semplice partita, rappresenta una grande chance per poter vincere il torneo. Usciamo fuori l'orgoglio ed il senso di appartenenza alla nostra città, sottolineano ancora i tifosi. Spingiamo il nostro Gela Calcio verso la Serie D. La partita di domenica avrà inizio alle 15.